Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da zero a 42. Tra i vari profili che seguo su Instagram, se penso a chi vive il trail in modo super genuino, quasi spensierato, ma al tempo stesso con l'approccio di fare le cose per bene e di dare sempre tutto, quello dell'ospite odierno è senza dubbio tra i primissimi che mi vengono in mente. Del resto, ogni giorno in cui non vivi muori, come diceva qualcuno, di molto importante. Ed è anche per questi motivi che l'ho invitato qua, ma non solo, ci sono un sacco di gare eppure un nuovo, relativamente nuovo, percorso d'allenatore di cui parlare. Ma mi taccio adesso, facciamo parlare l'ospite, quindi diamo il benvenuto, subito il benvenuto, su da zero a 42 a Simone Andreani. Ciao Lorenzo, è veramente un piacere e un'emozione essere qui da te dopo anni che ascolto il tuo podcast. Quindi saluto tutti e grazie. Davvero, grazie a te per la disponibilità. Intanto presentati, dici chi sei, che cosa fai nella vita al di là della corsa, poi di quello ne parliamo. Allora, io mi chiamo Simone Andreani, vivo in Umbria, in un paesino vicino al Lago Trasimeno, si chiama Tuoro. Nella vita di lavoro faccio il saldatore metalmeccanico e ho due figli con due donne, quindi è un passato un po' particolare anche a livello familiare. E niente, mi piace correre. Questo indubbiamente, anche perché si vede, insomma, dalle numerose gare che hai fatto, lo dicevo anche prima, ma tu come hai iniziato effettivamente a correre? Come ti sei avvicinato? Allora, mi sono avvicinato perché anni fa non facevo il metalmeccanico, ma facevo il barista. E pesavo parecchio, ero arrivato a 101 chili e stando dietro al bancone avevo anche tanti amici che venivano lì e parlavamo, chiacchieravamo e due di questi, uno era un allenatore fidal per i ragazzi e un altro si preparava per le maratone, aveva appena fatto la sua maratona sotto alle tre ore a Pisa e parlavano e dicevano vogliamo fare una cosa nuova e si sono iscritti a una Spartan Race a Orte, vicino a casa, praticamente in Umbria, praticamente per noi, un'oretta di macchina. E io ascoltandoli parlare mi sono detto, mi iscrivo anch'io, ma senza dirgli niente. Loro si sono iscritti nella categoria degli elite, quelli un po' più forti, io nei competitivi, ma non sapendo neanche a cosa andavo incontro proprio, mi sono iscritto e basta. Tanto che la preparazione che poi c'è stata di una gara che è stata alla fine di 20 chilometri, io ho corso, penso, prima di quella gara 10 chilometri in tutto in un mese, quindi ero prontissimo. Sono andato senza aspettative e è andata malissimo perché è stata durissima, ma una cosa devastante, però sono arrivato alla fine. Nonostante gli ostacoli, nonostante la corsa in mezzo alla natura, nonostante gli errori. Sono arrivato in fondo e mi sono sentito vivo, proprio vivo. A quel punto è partito la voglia di provare queste gare qui, che non so se conoscete le Spartan Race, gare ostacoli, molto belle. E quindi nel 2017 ho fatto due o tre gare di queste qui, ma nel totale degli allenamenti miei sono stati, penso, 200 chilometri tutto l'anno, comprese le gare, quindi andavo allo sbaraglio. E poi, però, le cose si sono fatte un pochino più interessanti quando, facendo queste Spartan Race nel 2018, mi sono detto, era a settembre, mi devo preparare meglio. E mi sono messo giù da solo a preparare con una scheda d'allenamento scaricata su internet una 10 chilometri. Dico, la voglio fare a 4 al chilometro, ma così non sapevo neanche di che si parlava. E mi sono preparato, ho fatto questa gara che poi è stata la mia prima gara in assoluto. E erano a 10 chilometri, si chiama Straquasar, una gara che era tutto meno che strada, perché era sterrato in salita, 10 chilometri, chiusi dignitosamente, però con il mio solito fare, cioè sono partito in ritardo, praticamente mentre mi stavo riscaldando hanno dato il via e io dal parcheggio ho iniziato a correre e sono partito per ultimo, ma non importava, l'importante era esserci. E poi da lì ho fatto il mio primo trail subito dopo un mese dopo nel paese di dove sto io, 15 chilometri in trail, perché comunque per preparare queste Spartan Race si sta in natura. E io ho provato e ho detto, cavolo, ma questo è stupendo, io voglio fare questo nella vita. E sono arrivato dopo questi 15 chilometri, devastato però, stare sui sentieri, correre sui sentieri, correre, a quei tempi gattonavo sui sentieri. E mi ha emozionato così tanto che dico, io voglio fare questo. E complice anche un po' di, avevo parecchie ferie da recuperare al lavoro, mi ha dato quasi un intero mese di ferie, intorno a febbraio del 2019. E ho iniziato così, oggi faccio 10, domani faccio 20, un giorno ho fatto una maratona qui sopra sulle colline di casa mia. Io più stavo sul bosco, più stavo a correre, più tempo passava e più stavo bene, cioè proprio mi sentivo bene. Poi è andata che ho fatto un'altra Spartan Race, ritornando sempre a Orte, e quell'anno lì mi sono qualificato per gli europei che erano ad Alleghe, nella mia categoria. A quel punto, cavolo dico, Alleghe, la montagna, bisognerà prepararla, prepararla per come facevo io. Quindi studiando un po' così, guardando su internet, mi è uscita fuori una gara della mia regione, in Umbria, che è stata poi la mia prima gara trail vera, in senso che è stato un'ultra devastante, con un caldo incredibile, e io sono partito pensando e dico, vabbè, in qualche modo la porterò a casa, e così è stato. E quelle dieci ore che ho passato morendo, risorgendo venti volte, insieme anche a questo mio amico che anche lui l'ho raccolto, a metà percorso l'ho raccolto e siamo oriati insieme, e da lì ho detto, io voglio fare questo, non le Spartan Race. L'ostacolo è di troppo. Quindi due settimane dopo ho fatto l'Europeo, è stata la mia ultima gara d'ostacoli. Poi da lì sono partito per la tangente, mi è salita la scimmia sulle spalle e da lì sono partito. No, ma infatti te lo volevo chiedere come era andata poi alla fine la faccenda Spartan, quindi mi hai anticipato. Ma cos'era quella gara lì? Già il cinghiale o hai fatto qualcosa prima del tre del cinghiale? Si chiamava Pale Ultra Trail, era 52 chilometri con 3200 metri di dislivello. Beh insomma, sei partito per sciogliere insomma, non è uno male. Giusto una cosetta, che io non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ma non me ne rendo conto neanche adesso, quindi vado avanti. Io sono andato a spipolare un po' il tuo profilo sui vari WTMB eccetera eccetera, infatti ho notato che già sei partito già sul trail che andavi abbastanza forte e comunque nel tempo ho visto comunque una crescita diciamo delle prestazioni, appunto ho notato poi che hai fatto quasi subito questa 90 chilometri al tre del cinghiale a torna fine 2019. Già lì insomma, scannellavi sufficientemente. Com'è andata in quella gara? Com'è andata? Che dopo questa Pale, questa Ultra, io non ho detto basta oppure voglio migliorare sulla velocità, io ero pesante e resto ancora adesso pesante, però ai tempi ero molto pesante, quindi il mio obiettivo era, io voglio starci di più sui sentieri, quindi devo aumentare assolutamente la distanza e spippolando anch'io un pochino così su internet ho visto fuori questa tre del cinghiale che ai tempi già era comunque una gara che nel centro Italia era già famosa e a quel punto insieme ad altri due pazzi, gli amici miei, ci siamo iscritti non sapendo minimamente a cosa andavamo incontro, però avendo, cavolo, ma 90 sono tanti, a quel punto ho detto mi serve qualcuno che mi è una mano. E ho preso un allenatore, ai tempi, ancora allena, anzi, ai tempi erano inizi, Donatello Rota, che sta verso Bergamo, l'ho trovato su internet e con lui ho cominciato e ho visto veramente la differenza che dà avere una persona che ti segue, che ti fa fare le cose che devi fare. Dopo c'è un piccolo problema che io, essendo che tendo un pochino a fare di testa mia, esagero e poi succedono cose un po' brutte come infortuni vari, però ecco, quei due mesi lì prima del trail del cinghiale sono stati favolosi perché ho visto proprio un cambio di livello che mi ha portato poi a finire questo trail del cinghiale, non senza soffrire, ho sofferto tantissimo, però finirlo, ad arrivare alla fine e essere veramente felice di quello che avevo fatto. Tanta roba, tanta roba. Nel 2020 comunque, nonostante il covid, diciamo così, sei riuscito comunque a farti delle gare alla fine della fira e anche lì non corta perché mi sono segnato qua anche il via delle giuglie ultra trail da 120 chilometri ad esempio. È stato il tuo esordio in tripla cifra questo qua? Sì, sì, assolutamente. Io durante il covid mi sono allenato tantissimo, cioè un periodo, è vero, brutto per tante versi, ma meraviglioso, a livello sportivo meraviglioso perché a parte, vabbè, noi al lavoro già a quei tempi, già non mi ero spostato come metà al meccanico, lavoriamo per i militari e quindi i militari non si fermano. Siamo stati fermi due settimane e mezzo, tre, e poi già siamo tornati a lavorare. Però io tornavo a casa e non dovevo uscire con gli amici, non dovevo andare da parenti, non avevo impegni. Quindi l'unico impegno era mettermi giù, farmi allenamenti in casa, seguivo un po' di questi matti che si allenavano live e in più la notte e io uscivo. Tanto c'ero solo io, io e il bosco, anzi, probabilmente, forse degli umani non ce n'era neanche bisogno perché il bosco in quel periodo è stato meraviglioso, era rifiorito completamente. Uscivo col cane, il mio cagnolina, che usciamo sempre insieme, quasi sempre, quando posso, la porto sempre. E veniva con me, ci siamo fatti anche 30-40 chilometri insieme le notte con la mia compagna che ogni volta che mi alzavo verso le due, le tre, mi diceva ma do cavolo vai. E poi tornavo a casa, a doccia, e andavo al lavoro. Fantastico, grande, numero uno, cazzo. E come è stato comunque poi, quindi hai preparato bene, insomma, sta gara? E come è stato superare il fatidico traguardo, così, dei 100 chilometri? Beh, beh, dobbiamo fare qualcosa di più. Quindi, dico, la prima gara che riparte, che sia tripla cifra, io vado e la faccio. Via delle Giulie è proprio stata la prima gara che hanno fatto appena ripartiti e, tra l'altro, un partenza ogni 20 secondi distanziati, uno per uno, eravamo pochi perché era la prima edizione, e con la mascherina, quindi senza doccia finale, senza passaparti, ma ti dirò, per come vivo io il trail è stato perfetto, cioè, è stato proprio il trail, cioè partire, fare la gara, stare ore e ore sui sentieri. La gara è solo la logistica di vedere posti nuovi, avendo la possibilità di fermarsi, sapere che c'hai da mangiare, che è da bere, poi con un percorso già pianificato, se no, per me il trail è quello. Tra l'altro, su questa gara, per andare su, avevo scritto su Facebook, su un gruppo, per sapere se qualcuno andava e mi ha risposto un ragazzo, che aveva i tempi già intorno ai 40 anni, però lui dirà che era, io gli dico sempre che è il mio vecchietto, però questo Vittorio, questo ragazzo che ha detto, beh, lo so anch'io a fare la distanza più corta, che era la 60, e siamo andati su insieme, ma non ci eravamo mai visti e abbiamo fatto un viaggio meraviglioso per andare su, da noi dall'Umbria fino a Priuli, è stato 7-8 ore, in cui abbiamo mai smesso di parlare, è nata un'amicizia che è veramente, ma più che un'amicizia, perché io lo chiamo anche il mio fratellone, e lui mi dice il mio fratellino, quindi proprio una gran amicizia, che si è consolidata poi sempre più negli anni. Sì, ma infatti poi dopo, se non sbaglio, con lui avete fatto l'FKT del sentiero, ma lo scritto del parco, 88 chilometri con 5.600 metri di dislivello positivo nel Parco Nazionale della Maiella. Tanta roba, 5.600 metri di dislivello positivo su 86 chilometri. Una delle esperienze più belle della mia vita, che porterò dietro per sempre, perché Vittorio, proprio quel viaggio lì mi disse, sai, io sono abruzzese, vivo a Perugia, però vengo dall'Abruzzo, sto vicino alla Maiella, e uno dei miei sogni è percorrere una volta uno di questi sentieri che lo percorre tutto. Lui mi ha detto, dai tempi, sono 90 chilometri in montagna, e questo sentiero si chiama il sentiero del parco, e mi piacerebbe tanto farlo un giorno. E io così, ma dal nulla, ho detto, vai ti accompagno io, quando vuoi, me lo dici. E lui dice, ma davvero? Sì, sì, dico, quando è? Me lo dici e andiamo insieme. E lui mi disse, va bene, quando poi vedo che c'è l'occasione, si fa. E di fatti, non essendoci tante gare, per via del Covid, l'anno dopo l'abbiamo preparato, organizzato, abbiamo riuscito a trovare anche un po' di sponsor qua e là, ma a livello locale, però siamo riusciti a ripagare tutte le varie spese e siamo andati con un sentiero che avevano detto essere aperto, invece dei tre sentieri che ci sono è quello meno battuto, quindi è stata un po' un'avventura. Con Vittorio che ci ha avuto anche lui diversi problemi fisici, però alla fine l'abbiamo riportata. Anche se per me è stato devastante perché probabilmente non ero pronto, ma da lì mi è partita una tendinopatia a entrambi le ginocchia rotulea, quindi è terrificante. Una delle cose più brutte che un atleta può avere è le tendinopatie generali, perché poi necessita di tempo per recuperare. E io invece avevo avuto un'infortuna al lavoro, quindi avevo tempo per allenarmi, avevo lesionato il tendine di una mano e quindi ero a casa, però non potevo allenarmi perché ero infortunato. E in più ero iscritto alla gara di luglio che tu avrai visto. Infatti dopo te lo chiedo. Ero iscritto e ero in panico perché dopo questo FKT, che è stata poi la prima e unica volta che l'abbiamo fatto, ma vogliamo già tornare assolutamente a rifarlo, anche al contrario perché secondo me al contrario merita ancora di più. E quindi ero impanicatissimo. Ho passato un mese di fisioterapia, esercizi vari, sperando che quei 90 chilometri servissero e abbastassero per poi finire la gara. Intanto guarda, se posso parlaci ancora un attimo dell'FKT perché è vero che il 2021 è stato un fiorire un po' di gente che ha fatto l'FKT perché come hai detto anche tu non c'erano gare. Però comunque resta un mondo ancora parzialmente di nicchia, diciamo così. Assolutamente, per me magari non è della zona di conoscere un posto nuovo con la certezza di non perdersi perché se poi un è bravo a seguire le mappe non si perde. E anche mettersi un po' in gioco perché alla fine se vai a fare un FKT magari se l'ha fatto Kilian no, ma se l'ha fatto qualcun altro dici vabbè ci provo dai. Magari viene fuori anche comunque un bel risultato, comunque perlomeno mi sono messo in gioco. Quindi è vero che potresti prendere come allenamento, però sinceramente la vedo più come un mettersi in gioco fino in fondo. Se parto, parto per fare bene e in più vedere un posto nuovo che è sempre il mio sogno nella vita è vedere continuamente posti nuovi. Nonostante mi alleno sempre sui stessi percorsi, però il sogno è girare, girare l'Italia, vedere posti in Europa diversi perché alla fine poi io amo le montagne. Quindi questo amore mi ha portato a fare gare soprattutto in Nord Italia e quindi se vedo degli FKT in giro cerco sempre di vederli che non siano le classiche colline che conosco benissimo, umbre toscana, anzi un mecco, qualcosa di impegnativo. Ce n'hai altri in programma che pensi di fare in futuro o comunque in una sorta di bucket list così? Uno è già in programma, vengo a maggio e ho già prenotato anche l'appartamento, quindi vengo su con la compagna, la figlia e vengo a fare quello delle Cinque Terre. Ormai divento, vedi ho lanciato la moda, cazzo, vedi? Hai lanciato la moda, ma già quando ne parlavi mi era entrato nell'orecchio, poi dopo Davide facendolo da poco mi ha messo ancora più la pulce, a quel punto ha detto quando ci siamo parlati in privato mi ha proprio messo la pulce, guarda tu potresti fare così, io a quel punto ho detto cavolo, la Liguria resta per me un po' sconosciuta perché a parte una gara, però so che è bellissima, quindi ho detto cavolo le Cinque Terre non l'ho vista mai, è un'occasione unica, devo andare. Tanto quest'anno devo provare a fare un po' di roba un pochino più tecnica, quindi mi serve anche quello. E quindi a quel punto preparatevi che proverò a fare il meglio. Giuro che non era preparata questa cosa, non lo sapevo, cioè sapevo che Davide ti aveva scritto, però poi non sapevo che veramente volessi farlo, quindi a questo punto quando vorrai dimmelo assolutamente. Il weekend è il 3, 4, 5 maggio, quindi già ho prenotato. E non so se sarà sabato o domenica, però uno dei due giorni lo faccio. Tanto io ho prenotato a Levanto e poi vado a Porto Rosso, Porto Venere. Porto Venere, Porto Venere. Quindi sì, dopo studierò un po' anche la logistica insieme alla mia compagna per vedere se mi viene a prendere lei, io torno col treno, ora ci studierò un attimo. Se sono in zona, perché a volte non sono a Spezia, a volte sono in Toscana anche io dalla mia ragazza, sicuramente ti posso dare uno strappo, vedremo quando saremo a ridosso. Magari, una bella birra insieme, che non sarebbe male, non è mai male. Ne riparliamo, ne riparliamo. Tornando alle gare, allora però dicevamo, anzi accennavamo alla verità alla gara, un po' solo delle gare più clou, più importanti, diciamo così, che è fatto secondo te tra le più lunghe. La 100.000 del Bernina Lavut, che appunto è chiuso in 42 ore. Com'è stata questa esperienza da 160 chilometri e 12.000 metri di dislivello, che è una roba mostruosa solo a dirla? Veramente mostruoso sia quando mi sono iscritto che quando poi ne parlavo con le persone. Però non lo so, forse quando sei dentro questo mondo non ti rendi tanto conto delle distanze. Quando tu hai fatto già 120 chilometri, 90, e comunque hai questo richiamo all'avventura, perché alla fine per me è sempre mettermi in gioco, ma è anche vedere posti nuovi, un'avventura. Quindi è anche questo amore nello stare più ore possibili in mezzo alla natura, alle montagne. Quindi non la vedevo come una cosa, oddio, non ce la farò mai. Io sapevo che sarei arrivato, non so come, ma sapevo che sarei arrivato in qualche modo. A meno che non mi fermavano, io sarei arrivato. Come ti dicevo, ti accennavo prima, sono arrivato da questo infortunio, l'avevo recuperato proprio all'ultimo, quindi partivo senza nessuna aspettativa. Volevo solo godermi due giorni di montagna. Tra l'altro quella volta mi hanno accompagnato per l'unica volta in cui mi hanno accompagnato, sono riuscito a convincere i miei, dico dai fatevi una vacanza a montagna, che loro ai tempi erano grandi amanti della montagna, facevano le ferrate sulle dolomiti, quindi ai tempi quando erano giovani. Poi hanno fatto 12 figli e quindi di conseguenza le giornate in montagna sono finite, anzi quando gli dico che vado in montagna so loro che a me mi dicono non sei matto, ma dove vai, è pericoloso. E quindi stavolta sono riuscito a portarli via. Mi hanno accompagnato e non eravamo tanti in questa gara, perché di solito la Valmalè, la VUT, Valmalè in ultra distance, la gara Regina è la 90 chilometri con 6.000. E quell'anno decisero di fare questa 160 chilometri, così per prova, che infatti poi dopo non l'hanno più fatta, perché logisticamente è impegnativo, io capisco. Mi rendo conto che impegna tanta gente e anche tante ore a chi prepara, a chi organizza, se poi dopo magari non c'è un grande risvolto a livello di persone che vengono a fare gareggiare, economicamente penso che non sia solo una rimessa. Non è sostenibile, se si capisco. Quindi partenza da Sondrio alle 11 della mattina del giovedì, e parto, non conoscevo nessuno, quindi io sono partito con lo mio zainetto della Decathlon, quello sempre, il solito, pieno, stracolmo, con tutto quello che serviva, anche di più. Siamo dopo, penso, la prima metà, già avevo grossi problemi, anzi al settantesimo, nella prima notte, venendo giù su uno sterrato, io avevo su un sentiero molto tecnico, io avevo preso quei tempi, avevo la sportiva, le giacal, solo che dietro hanno una conchiglia durissima, che io poi ho scoperto che potevo modellarla un pochino per ammorbidirla, ma ai tempi non lo sapevo, e mi hanno distrutto completamente i talloni, avevo delle vesciche infinite dietro, sui talloni, e quindi in conseguenza correvo di punta, e ho preso tutti i sassi di tutto il sentiero che venivo giù, e di conseguenza avevo le unghie davanti completamente saltate. Quindi a metà gara io avevo già vesciche enormi, e due o tre unghie completamente sanguinanti, e io non mi sono fermato, alla bassa vita a metà, mi sono cambiato, ho provato a mettere dei cerotti, e sono ripartito. E è passata un'altra giornata, in cui ho avuto due crisi, una veramente terrificante, mi ricordo solo che camminavo, perché mi dicevano, se ti fermi è peggio, non ti fermare, cammina. Camminavo, ai tempi mi ricordo che ho portato via le cuffie, che non ascolto mai musica, però gli dico, vabbè proviamo con la musica, la musica mi dava fastidio, ho messo su il podcast di Buckhold, e ascoltando Marcello e Alessandro, piano piano sono riuscito a ripartire. A quel punto ho incontrato due atleti, che erano anche loro in gara, con cui avevo già parlato qualche ora prima, e mi hanno detto, allora dai andiamoci insieme, siamo riusciti ad arrivare a questo rifugio, e iniziava a fare buio. Ho tolto le scarpe, hanno visto le condizioni dei miei piedi, mi hanno detto, ma dove vai? E io ho detto, eh io devo arrivare, non mi interessa, alla fine non mancavano neanche tavole, a quel punto non mancavano tanto, 40 chilometri comunque, e ci avevano tolto un pezzo, infatti alla fine non è stata 100 miglia, ma 153 chilometri, ci hanno tolto un pezzo perché rischiavamo, in quei tempi avevamo fatto la neve, rischiavamo di trovarci lì un po' in difficoltà, quindi ci hanno tolto 5-6 chilometri, e io mi sono rivestito, e dal rifugio, ho messo la frontale e sono ripartito, e nonostante questo, nonostante che non ho dormito niente, che è forse uno degli errori più grossi che ho fatto, però avevo paura che fermano, quando mi fermavo ai ristori, sentivo le gambe che diventavano cemento, allora ripartivo dalla paura, e sono arrivato, devastato, tanto che sull'ultima discesa, alle 5 della mattina, alla seconda notte, ho chiamato i miei, e gli ho detto, oh sto arrivando, quindi loro sono svestiti di corsa, hanno preso la macchina, sono venuti giù, e io mentre arrivavo, ma proprio sul parcheggio, prima dell'arrivo, del rettilineo finale, li ho visti che scendeva la macchina, mi sono fermato, io ho detto, andate giù in fondo, e vi aspetto all'arrivo, perché io non arrivo, se non c'è qualcuno, che mi aspetta, allora, sono corsi all'arrivo, sono corsi anch'io, tra l'altro, sulla parte finale, mi ero anche ripreso, quindi, ho superato un atleta, a 2 km dall'arrivo, e siccome era un atleta di casa, lo aspettavano tutti, lo seguivano sul tracker, e quindi l'hanno chiamato, ecco Pietro, ecco Pietro, e io invece, e io facevo, non sono Pietro, ma non sono Pietro, e c'è, no, fermi tutti, che sta Simone, allora, è stata un po' la comica, con Pietro, che poi è arrivato, che sta anche in scusa, mi dispiace, avete superato, a 2 km, ma, vedevo l'ora di arrivare, incomprensibilmente, poi fortunatamente, fortunatamente, c'erano i miei, perché io, appena mi sono entrato, nella palestra, per cambiarsi, sono completamente collassato, collassato, cioè, ero proprio, ma più che uno zombie, i miei mi hanno riportato all'hotel, ho fatto, ci ho messo un'ora, per fare scale, penso, e mi stavo addormentando sotto la doccia, e poi a un certo punto ho detto, basta, mi butto a letto, è stato uno dei sogni più ristoratori, che abbia mai vissuto, in vita mia, è stato meraviglioso, dalle 7 da mattina, fino alle 4 del pomeriggio, stavo, sono sviato alle 4, piedi devastati, ma stavo, beh, ero felice, ero proprio felice. Che bello, ma deve essere stata una grande esperienza, anche questa, come anche altre, tra l'altro l'ha avuto, ho notato essere un po' ricorrente, anche negli anni a venire, nella versione appunto, quella però da 90 km, anche magari una competizione, poi forse anche per questo, a cui sei un po' legato. Sì, 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 è assolutamente legato per questa avventura, ma anche perché il percorso del 90 km è stupendo, io non ho fatto tantissime gare, non sono uno che gareggia tanto, preferisco allenarmi, mi piace tanto di più allenarmi, e prepararla bene, magari andrà anche male, però le ultra vanno preparate, e preferisco prepararle bene, se posso. Quindi faccio poche gare, anche perché comunque, i tanti impegni familiari, quindi le ultra portano via tempo, e la VUT, grazie anche a questo amico, che ho poi incontrato, alla 100.000 del Bernina, con il quale poi siamo rimasti in buoni rapporti, lui vive lassù, e siamo proprio rimasti amici, anche lui si chiama Simone, è Fasolino, e siamo proprio rimasti amici, ci sentiamo spesso, e lui mi ha detto, devi tornare a fare la VUT, quindi sono tornato, mi ha ospitato a casa, mi ha accompagnato lui, prima, dopo, sbiccherate, l'anno scorso, sono tornato un'altra volta, e la sera prima, Long Island, birre, con lui è un po' impegnativo, perché le vive ancora più di come le vivo io, il trail proprio al massimo livello, la birra al rifugio, durante la gara, quindi, io lo stimo tanto, è un po' più lento di me, e lui mi dice sempre, c'è un fenomeno che non è vero, però, però io invece lo invidio, perché le vive, io, ancora c'è un po' la competizione dentro, forse, non lo so, forse perché, il fatto di avere tanti fratelli, e quindi, è una competizione, da quando è la nascita, oppure, perché comunque ancora so giovane, penso che posso far di più, e quindi, di conseguenza, la vivo, vivo il trail come un'avventura, però, c'è anche il lato agonistico, cioè, se metto il pettorale, devo dare tutto, il motivo per cui anche faccio poche gare, è quello, perché se attacco il pettorale, non riesco a fare l'allenamento, io, io devo dare tutto, anche, a costo di farmi male, come poi, tante volte è successo, quindi sì, la boot, perché è un percorso, stupendo, che chi non l'ha mai fatto, vada a farlo, è durissima, 90 chilometri, 6 mila metri, veramente, veramente dura, però, però, stupenda, veramente, il percorso, le persone, l'organizzazione impeccabile, la valle che vive la giornata, come se fosse, una festa nazionale, praticamente, sono tutti, bambini alle due le notte, con mezzo al nulla, con il fuoco acceso, che ti tendono la mano, cioè, è piccola, perché ancora rimane piccola, però, però, è stupenda, in più, ecco, c'è nata questa amicizia, quindi, vado volentieri, ecco, tornerò anche stanno, probabilmente, anche, anche se non dovrei, perché, sto preparando un'altra cosa, e, quella lì, si mette un po', in mezzo alle, ci proverò, via, vado lo stesso, penso, perché, alla fine, volevo fare quella distanza, più corta, ma Simone mi ha detto, se viene a fa' quella, niente, parlo più, quindi, e ce la butto è solo una, quindi, ok, va bene, penso che tornerò anche stanno, si può già sapere cosa stai preparando, al di là delle FKT, cosa è in programma, per quest'anno, la gara A, sì, sarà il Kima, ah, cazzarola, perché, purtroppo, l'ho già fatta, due anni fa, ma, in un'annata in cui, sono arrivato, un po' cotto, e l'ho presa un po' sotto gamba, pensando, dico, tanto la porterò a casa, e invece, mi hanno fermato all'ultimo cancello orario, e, sta cosa, mi è rimasta proprio qui, la devo, la devo buttare in qualche modo, e, quindi, cercherò di preparare, bene, quella, poi, tutto quello che sto facendo, anche adesso, eh, attualmente, è per migliorare, essere un pochino più veloce, poi, per riuscire poi, dopo, a finire la gara, perché, chi ma, è probabilmente la gara, più dura, che abbia mai fatto, e, penso che, sì, nel panorama trail, non c'è niente, penso di, così duro, ma, a detta non solo mia, ma di, di tutti, perché la, la tecnicità del percorso, è, è risaputa, ma il problema è, che i cancelli orari, sono strettissimi, è fatta per, gente, forte, per gente veloce, e, e non, non si può inventare, io, sono andato, e non sapevo ancora, cosa significasse tecnico, adesso l'ho imparato, e quindi, eh, cercherò di, tornare, e fare, almeno, l'ho portato da casa, dopo, vediamo che succede, però, ecco, l'idea è fare una bella gara, per me, dopo, io, gareggio sempre con me stesso, difficile che gareggio con gli altri, alla fine, eh, non sono così forte da poter guardare davanti, gli altri, è più una, una competizione personale, aver dato tutto. Comunque, non vai neanche pianissimo, fidati, se vai tranquillo. L'altro, andando avanti cronologicamente, poi, il 2022, oltre al discorso Kim, è stato anche l'anno di loot, a proposito, direi che comunque è un bel tempo, che poi Cortina, direi che, almeno, personalmente, ho perso un po' per tanti, 3Runner è un po' un sogno, ha un fascino particolare, è così anche per te, oppure loot, mi ci va a fanculo? Per me loot è proprio il contrario di tutti gli altri. Esatto, immagina. Non mi è piaciuta, non so più come dirlo, e anche spiegarlo, perché, eh, cioè, tornerei, probabilmente, prima o poi tornerò a farla, ci proverò ancora, ma solo, esclusivamente per migliorare il mio tempo, perché so che non è quello, il mio tempo, eh, perché quando l'ho fatta, poi venivo fuori da un'altra tendinosi, lì a quel punto ero proprio tendinosi totale, sono stato fermo tutto gennaio, anche quasi tutto febbraio, e quindi ripartire è stato durissima, piano piano dico, va bene, preparo loot, perché mi avevo estratto, anche lì per lì, quando mi avevo estratto, non ero, sì, ero scontento, però, eh, non ero così gasato come pensavo, pensavo di essere molto più gasato, e poi, ho capito perché, perché, alla fine è una bella gara organizzata da Dio, la partenza è super emozionante, è davvero uno dei momenti più belli, però poi è sterrato, cioè, sono grandi stradoni, in cui nei primi 30 chilometri notturni, vedi solo le gambe della gente, nessuno ti parla, nessuno, nonostante provo, ho provato a parlare, io nel trail, ho conosciuto così tante persone, parlando durante la gara, persone che io ancora conosco, come Simone, come, come tanti amici che ho adesso, ancora adesso, conosciuti, che ci sentiamo, continuiamo a sentirci, e, è perché l'ho conosciuto parlando, durante la gara, e invece, alla loot, non so, forse il fatto che è così famosa, la gente la sentiva tantissimo, e non ha vissuta come vivo io il trail, poi dopo, posti bellissimi, però, la montagna è lassù, cioè, non sei dentro la montagna, ma sei intorno alla montagna, e, a me questo un po', ma, ma, ma un po' frenato, nel, nell'entusiasmo della gara, ecco, che poi, è andata, discretamente bene, perché poi, anche lì, probabilmente, ho sbagliato scarpe, e, c'avevo, c'avevo una, una, due dolori fortissimi, ai tibiali, sono dovuto fermare diverse volte, per, per cercare di fare lo stretching, e, però, sì, sicuramente l'alba, le tre cime, è stata, meravigliosa, meravigliosa, però, a parte quella, a parte il passo giao, la parte del passo giao, subito dopo il col gallina, in cui, anche lì, sono arrivato devastato, e, ho fatto un po' lo show, dentro al ristoro, perché ho mangiato di tutto e di più, cosa che, io, la gente, forse perché vado piano, però la gente dice, ma come fai? Io, mangio veramente come, un animale, quando arriva all'istoro, tanto che, a parte ridevano, perché io ho mangiato, tre piatti di riso, uno di minestra, tre uova sode, una dietro all'altra, panni con la marmellata, panni con la nutella, le banane, ho mangiato veramente, di tutto, a un certo punto, uno mi ha detto, guarda, ci sarebbero anche gli altri, dico, ah sì, no, certo, capisco, ho preso, sono ripartito, però, poi invece, come dico sempre, poi, ho giocato la carta jolly, sono risorto, e il finale, l'ho fatto, in progressione, gli ultimi dieci chilometri, se non sbaglio, mi pare, cinquanta minuti, cioè, proprio, dopo centodieci, esatto, sono veramente rinato, ho superato gente, correvo felice, sicuramente, per chi ama correre, proprio correre, quella è la gara, perfetta, a me proprio piace anche camminare, e in montagna, quindi, beh, bella, però, non la gara, che proprio, sognerei ancora di rifare, ecco. Ci sta, ci sta, infatti, immaginavo una risposta del genere, da parte tua, però, volevo chiedertela, proprio per questo, e invece, dando avanti, tecnologicamente, arriviamo all'anno scorso, a proposito di tecnicità, o anche di Liguria, sei partito con l'annata, facendo intanto, Mare Montana, che comunque era campionato italiano, hai fatto, comunque, trentatresimo assoluto, che, comunque, c'era un bel parterro, una bella start list, e com'è stato competere, appunto, anche con gente, di livello? Mare Montana è stata un po', come si può dire, un evento un po' particolare, perché, uno dei nostri amici, aveva dei pettorali in omaggio, perché aveva lo stand lì, e ha detto, io ho questi dieci pettorali, chi vuole venire via? Allora, abbiamo fatto gruppone, e siamo partiti tutti, poi alla fine, lui non è venuto, perché, ha avuto un impegno di lavoro, e noi invece, siamo partiti tutti, e io l'ho presa come, sapendo che era campionato, dico, vabbè, dai, proviamo a vedere, che combino, poi, per carità, davanti a me, sono arrivate diverse donne, quindi, significa che tanto forte, non sono andato, perché le donne, è vero che sono forti, però, porca miseria, se arrivi dietro alle donne, tanto forte non sei, infatti, lo so di non essere forte, però, vabbè, ai tempi, vabbè, che davanti a me, c'era la Fabiera Conti, che quell'anno, ha fatto, è stata veramente devastante, però, nel senso, ho fatto la mia gara, volevo stare sotto alle otto ore, non ce l'ho fatta di poco, circa sei minuti, mi pare, non mi ricordo bene, però, insomma, ecco, però, però, bella, 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 tosta, tostissima, però, la Liguria, è quello che mi aspettavo, la tecnicità, ma anche, la bellezza, di essere, io non amo tanto il mare, se non visto dare montagne, quindi, quella era perfetta, era la perfezione, poi, vabbè, quel, 500 metri finali sulla sabbia, proprio da, da sadici, però, va bene, ci sta, ci sta. anche dei miei amici, che è stata un po' ninfamata, questa cosa qua, che l'hanno odiata un po' in tanti, poi, successivamente, ci sono state, invece, cose un po' più vere, rispetto a loot, diciamo così, cioè, Urma, e poi, Translagorai, classic, anzi, reverse run, che sono state decisamente, un modo diverso, per vivere il trail più autentico, probabilmente, cosa ci dici di Translagorai, diciamo così, perché Urma, non si può dire nulla. Urma, non si può dire nulla, ma, l'ho visto da due anni, di fila, l'evento, per me è l'evento, quest'anno, non so neanche se riuscirò, a, andare, perché ancora non ho ricevuto l'invito, spero tanto che, arrivi, però, cioè, per me è più importante di UTMB, in senso se, eh, poi, chi l'ha vissuto, chi anche solo ha capito di cosa si parla, eh, può, può capire, per come vivo poi io il trail, può capire perché dico così. Invece, Translagorai, è nato tutto, perché, proprio perché, per Urma, conoscendo gente, di su, di Trento, è venuto fuori questo discorso, insieme a Vittorio, gli ho detto, ma, vogliamo andare su a farla, e quindi, siamo andati due anni fa, a fare la, la prima, la prima volta, da, il Passorolle, a, eh, da Panarotta, Passorolle, e poi l'anno scorso, dal Reverse, e, è stata una delle, anche quelle due, siccome l'ho fatta poi sempre con Vittorio, insieme, eh, è stata, una delle esperienze più belle, della mia vita, la ricordo, ancora adesso, tornerei tutti gli anni, ma vediamo, se sarà possibile, quest'anno non credo, perché, non so se riuscirò a fare, quest'anno, cioè, con invito, con, devi fare le ore, dei suoi sentieri, non so se riesco da qua giù, a, a farla, però, volentieri, tornerei anche con degli amici, a farla così di mio, sicuramente farla nel giorno, in cui lo provano tutti, è più bello, eh, però, è bella a prescindere, una, non è, non è, non è un percorso per tutti, è, è tanto, tanto duro, però, è, è la montagna, è quello che io sogno della montagna, lo stare con gli amici, soffrire, vedere posti meravigliosi, e, scoprire posti nuovi, quindi, eh, conoscere gente nuova, perché comunque, ho conosciuto tante persone, stupende, spettacolari, grazie a Translagorai, noi eravamo i toscani, io e lui, e io e Vittorio, nonostante che, eh, siamo uno Umbro, e uno Abruzzese, però, siccome io vivo molto vicino alla Toscana, eh, ci è rimasta un po' l'influenza, e quindi la gente pensavano fossimo toscani, e quindi siamo rimasti un po' nel cuore di tutti, perché, alla fine, il nostro spirito, così, di, di, di conoscere persone, e stare insieme agli altri, è stato, è stato colto, anche dagli altri, insomma, ecco, eh, Translagorai, poi la prima edizione, per me è stata devastante, perché, eh, pronti via, mi sono storto una caviglia, invece è finito sopra un masso enorme, quindi ho fatto con questa caviglia gonfio, altri, eh, settanta chilometri di sassi, che chi conosce la Gorai, sa di cosa si parla, quindi soffrendo, comunque, tanto che ero indietro, io ho detto, ragazzo è andato avanti, mi ritiro, eh, arrivato a un passo, all'alba, a duemila cinquecento metri, mi sono messo a dormire, eh, ho messo il telo, dormo un quarto d'ora, mi riposo, poi piano piano scendo, e invece, dopo un quarto d'ora, mi sono svegliato, eh, e sono ripartito, l'ho raggiunto, io corso, ero felicissimo, sono arrivato dicendo, ah, dai, andiamo, poi sono rimorto un'altra volta, però, ecco, eh, il bello del trail, anche di, di, di scoprire i limiti che uno ha, e poi superarli, perché alla fine, tante volte ho fatto delle cose, che io ancora mi chiedo, ma, come ho fatto? E non lo so. Eh sì, ma infatti a proposito di risorgere cose così, andando sempre cronologicamente avanti, sempre quell'anno lì, hai fatto UTMB, ma io ricordo dei tuoi post, leggendo, che è stata una gara un po' travagliata, diciamo così, comunque raccontaci un po' come è andata, perché resta sempre, una gara top mondiale. Assolutamente, assolutamente, guarda, UTMB, ecco, una forza, una delle gare che, tornerai a fare, e sicuramente, troppa gente per i miei gusti, perché comunque c'è tanta tanta gente, però obiettivamente, Chamonix e tutto il Monte Bianco è stupendo, quella è la montagna, e la difficoltà ci sono, tante, la distanza in primis, che non si inventa, il dislivello anche, e poi il gestirsi, cosa che io comunque, tutta questa esperienza sulle 100 miglia, non ce l'ho, quindi bisogna un po' gestirsi, e pensavo di averlo fatto bene, probabilmente, invece l'ultimo mese, prima di andare, l'ho vissuto un po' male, perché c'era, dopo la VUT, che comunque era andata anche abbastanza bene, e pensavo che bastasse come ultimo lungo, poi l'ho presa un po' sotto gamba, nel senso che avevo qui il rionale del mio paese, io sono il capo rione, facciamo un tiro della biga, su una salita, quindi con questi ragazzi, l'ho allenato a loro, però gli allenamenti hanno tutto meno che tre, quindi ho fatto poco, e probabilmente questo poco, poi quando mi sono trovato a fare UTMB, un po' mi è mancata la parte finale dell'allenamento, che da allenatore, un po' ecco, se poi vado a vedere quello che ho combinato, dico ecco, sicuramente qui ho sbagliato, ho sbagliato, e quindi arrivato al 100, 100, praticamente mancavano 20 chilometri, 145, sono iniziato a sentire un dolore fortissimo al polpaccio, ma non capivo che cavolo era, non camminavo più, arrivato all'ultimo ristoro grande, dico era buio, e sono arrivato zuppicando, e sono stato lì con il personale medico tanto, e io pensavo di fare un certo tempo, che avevo in testa, cioè di arrivare entro le 32 ore, invece mi sono trovato veramente che non sapevo dove sbattere la testa, perché il dolore non passava, i medici in francese parlavano, non capivano l'inglese, provavo, loro mi dicevano non si può fare niente, forse è il tendine, forse se me lo toccavano saltavo dal lettino, a un certo punto dopo più di 40 minuti che ero lì, io gli ho detto, io ragazzi io riparto, ma dove vai? Dico, mi importa, arriverò, gli ho detto, arriverò sulle braccia, gli ho detto a gattoni, in qualche modo faccio, anche loro ridendo hanno detto, se ti prendi la responsabilità, e io sono ripartito, era notte, era buio, c'avevo tanto tanto dolore, ma tanto, mai sentito così tanto dolore, però, usando i bastoncini come fossero due stampelle, mettendoci quattro ore praticamente per fare un percorso, che probabilmente ci avrei messo la metà del tempo, l'ho portato alla fine, ho sofferto tanto, troppo, però, infatti sono arrivato che non ero per niente, per niente contento di quello che era, come era andata la gara, però, poi ripensandoci, ragionandoci, ecco, gli errori sono stati solo i miei, esclusivamente i miei, e poi certo, la distanza è grande, quindi, tutto può accadere, e te lo prendi, e te lo porti a casa, ecco, tutta esperienza. La tearte che entra, quando tornerai, magari lo gestirei meglio, comunque, poi ti sei ripreso, perché ho visto che hai chiuso la stagione, con un ottimo secondo posto, la Maratona degli Ernici, e poi, quest'anno, avvieni comunque di recente, diciamo, quando registriamo, abbastanza fresca, da un settimo posto, alla Strasimeno, che, comunque, è una gara abbastanza diversa, diciamo così, dai tuoi standard, perché, decisamente più corribile, rispetto al tecnico, e ci ci hai messo dentro, tra l'altro, in questi 58 chilometri, di una maratona, sotto le tre ore, cos'è che ti ha spinto, a fare una cosa, molto diversa, dalle tue abitudini? Esattamente questo, cioè, dovevo mettermi, a disagio, perché ho detto, se devo migliorare, devo fare qualcosa, che non faccio mai, ovvero, allenarmi di più, in pianura, e, preparare bene, la distanza, se uno pensa, alla distanza, al preparare, io non penso, a una 10 chilometri, non penso, a una mezza maratona, ma penso alla maratona, se fai la maratona, la devi fare, per un bravo amatore, insomma, qualcuno che si impegna, che fa tanti chilometri, dice, ma cavolo, sapevo di poter valere, sotto le tre ore, dico, ci devo provare, però, non volevo fare una maratona, su strada, non ho mai fatto gare su strada, e voglio rimanere su questo trend, quindi, faccio, dico, faccio la gara, di casa, sotto casa mia, sono i, la ciclabile dove mi alleno, che ha sterrato, praticamente, 50% ha sterrato, 50% asfalto, la stasi meno, non l'avevo mai fatta, ecco, dai, è l'anno giusto, già ne parlavo, gli anni scorsi, che volevo fare, ma, questo era l'anno, per mettersi giù, anche per, in vista del chimo, migliorare un po', sulla velocità, e testarmi, capire anche, che significa, una maratona, fatta bene, quindi, non è, non è scontata, io adesso che l'ho fatta, mi rendo conto, che, prepararla, è tosto, e, e farla, è veramente, veramente tosto, poi, io magari, potevo valere qualche minuto, meglio, se non avessi aggiunto, 16 km finali, forse sì, se non ci fosse stato il vento, probabilmente sì, se non avessi scacacciato, per tutto il percorso, perché, così è stato, probabilmente sì, tanto che, mi seguiva Vittorio, con la bici, e a un certo punto, mi affianca, mi fa, oh, com'è tutto bene, io, mi sono cacato addosso, a posto, vai tranquillo, e io, niente, l'ho presa così, a ride, però, stavo veramente, dando il mio massimo, per stare sotto, a quelle tre ore, e vedere poi, arrivare sotto all'arco, del passaggio maratona, e vedere, due ore e 59, e 17 secondi, è stata l'emozione, cioè, la giornata, già, poteva finire già lì, poi dopo, ci ho aggiunto, 16 chilometri di sofferenza, in cui ho rallentato tantissimo, ho concimato tutto, il percorso, però, va bene, sono contento, perché alla fine, è venuto fuori anche, un bel risultato, un bel passo, e anche, a livello di classifica, ho riportato a casa, un bel salamone, una cacciotta, e, e sono contento così, insomma, ecco, una gran giornata, vedi, ti sei rifatto, abbiamo parlato un po' di gare, così in generale, anche se appunto, tu magari non ne fai chissà quante, ma ce n'è una, la tua gara da sogno, che non hai ancora fatto? Allora, guarda, sentendo il podcast, tante volte, mi sono chiesto, dico, che gare mi piacerebbe fare, obiettivamente, se penso a una gara, che veramente vorrei fare, se penso a una ultra, io vorrei fare, la Diagonale de Fou, il Gran Rai del Reunion, mi piacerebbe tanto, perché poi l'anno scorso, c'è andato Vittorio, io già la conoscevo, e poi seguirlo, cercare di capire, dove stava, guardare la mappa, mi è entrata ancora di più, in testa, anche se so che attualmente, non è tanto fattibile, più che altro per le finanze, e poi anche perché comunque, bisogna prendere una settimana, dei feri, e a quel punto dovrei organizzare, sia con la compagna, con la figlia, piccola, che comunque ha un anno, 15 mesi, e poi l'altro figlio più grande, che non sta sempre con me, quindi di conseguenza, lui ha 11 anni, bisogna organizzare un po' tutto, e cercare di unire un po' tutto, quindi attualmente, non è tanto fattibile, se poi ti devo dire, Garen, che probabilmente, che ho anche provato a iscrivermi, io penserei a Zegama, che magari è più corta, però deve essere qualcosa di stupendo, e Sier-Zinal, le due che mi vengono in mente, che probabilmente, il sogno di farle, visto che Kimastano vado, UTMB è fatta, l'Utto ormai è andata, quindi non sono uno che ripete gare, a parte la Valmalenco, perché quello va bene, è come se fosse, ti dico la gara di casa, perché non è vero, perché so a 500-600 km, però la sento una gara mia, nelle mie corde, comunque quello che mi piace fare a me, percorso tecnico, duro, ma anche bello, e quindi queste sono le gare, un po' che, ecco, il sogno, se devo pensare a una gara sogno, sono queste. Ok, devo dire, delle risposte un po' diverse, rispetto a quelle che, anche io magari, ma che vengono date in generale, però effettivamente, a te piace quel tipo di gara, quindi ci sta assolutamente. Roba dura e tecnica, devo sentire, scoppiare i muscoli, sia in salita, che in discesa, se no, non sto facendo, mi sembra che non fare niente. Cambiando un po' di discorsi invece, di recente, l'abbiamo anche accennato a quella, sei anche diventato allenatore, intanto cosa ti ha spinto, a voler intraprendere questo percorso? Allora, il percorso allenatore, in verità, parte già un paio di anni fa, quando un po' di persone, mi avevano chiesto, se potevo fargli delle schede, in preparazione di varie gare, e così ho fatto, ma proprio a livello di amici, e a cui ho preparato le schede, e sono trovati bene. L'allenatore ce l'ho avuto poco, perché Donatello l'avevo preso per il cinghiale, poi c'è stato il Covid, e non l'ho più ripreso, però ecco, come fai anche tu, se c'è una cosa che amiamo fare, è studiare, e io ci studio tanto, ascolto podcast, ascolto webinar, su YouTube, leggo libri, perché? Perché principalmente per me, per capire come devo gestirmi, cosa devo fare, dove posso migliorare, e poi perché, visto che avevo queste due o tre persone, che si affidavano a me, e volevo dare il meglio, nonostante che non venivo pagato, però dico, se devo farlo, lo faccio bene. Qualcuno è rimasto, tanto che, ecco, uno dei ragazzi, l'avevo preparato per un 80 km, che non aveva mai fatto più di 35, e l'ha portato a casa, e si è affidato a me anche stanno, perché è stato scastrato per la loot, quindi, lo preparo a lui, poi altri amici, che qualcuno non era neanche amico, adesso è proprio amici miei, che si affidano, e quindi a quel punto ho detto, cavolo, se c'è gente che si fida di me, ma io gli devo dare, il meglio di quello che posso, quindi, devo anche certificarmi, è giusto che sia così, per me, e per loro, e quindi, diciamo, il passaggio è stato breve, un po' anche, sentire a te, che ti eri, diciamo che, tu e anche altre due o tre persone, che conosco, che si stavano lanciando, in questo mondo, e dico, dai, è il momento giusto, o adesso mai più, e quindi, mi sono lanciato. Bravo, ma l'hai fatto bene, non sapevo, se hai già iniziato prima, diciamo, prima di prendere le certificazioni, però, hai fatto benissimo, sono molto d'accordo, sul percorso che hai intrapreso, quindi bravo, bravo, mi fa piacere, ma invece, ne abbiamo parlato, tra l'altro, in privato, di recente su Instagram, ma già che ci siamo, volevo anche approfittarne, per divulgare la cosa, c'è qualche libro, che a te, hai trovato interessante, chiaramente di manualistica, un po' sulla corsa, sul trail, che secondo te, vale la pena leggere, per un allenatore, o anche, per uno che vuole imparare, anche se è un allievo, diciamo, non allenato? Allora, come ti dicevo, in privato, secondo me, il manuale di Fuglio Massa, è veramente ben fatto, nonostante lui non sia, un allenatore di trail, principalmente, o comunque famoso, per essere, più un allenatore di atleti, tecnica, però, il suo manuale, si vede, che c'è tanta, tanta competenza, ed anche tanta esperienza, in più, io avevo la vecchia versione, e, del trail, di una volta, quindi, vecchie schede, un approccio, un approccio, old, al trail, al trail, e ho visto, che c'è la nuova versione, sicuramente, penso, che prenderò, perché, mi intriga, e, ho letto qualche stralcio, qua e là, su internet, è fatta, veramente, veramente bene, sicuramente, uno dei migliori, che c'è, attualmente, poi, ho guardato un po', anche quelli che mi avevi consigliato tu, e sono quasi tutti validi, sono un po', indeciso, perché, non voglio buttare soldi, se li prendo, preferisco, spendere bene, ecco, quindi, ma, poi, ecco, manuali, però, alla fine, se uno, gli piace leggere, sono tanti libri, veramente belli, tipo, se posso consigliare uno, è l'ascesa di Ultrarunner, è un libro da leggere, da leggere, è un giornalista, che ha detto, a un certo punto, devo capire, come mai, c'è tutto questo, fermento, intorno agli Ultrarunner, e, il libro è fatto, letto, in, veramente, in due, tre giorni, nonostante che sia un bel mattone, però, scritto bene, è bello, è veramente appassionante, quello va, uno, se uno è un Ultrarunner, ma anche un corridore, lo deve mettere, in lista, via. Ok, magari, se me li ricordo, me li scrivo, me li metto anche nelle note dell'episodio, così la gente, se vuole, se li va a comprare, questi libri, e se li legge. Invece, il tipologia di allenamento preferito, da fare te, e da far fare agli allievi? Allora, io, io amo le ripetute, perché, tutte le volte che vado, dico, ma, ce la farò? E poi, invece, siccome, diciamo, sono tarate su di me, poi alla fine ci riesco, anche, non sempre, però, quasi sempre, riesco a fare come le vorrei fare io, e quindi, la soddisfazione è doppia, perché sono uscito, mi sono allenato, e poi, i risultati si vedono, magari non sul breve termine, però, se quando dopo, ecco, per esempio, un maratona, sono venuti fuori tutti gli allenamenti che avevo fatto di velocità, sono venuti fuori tutti. Certo, è lungo, ore e ore e sentieri, è imbattibile, perché, cioè, è imbattibile, però, anche il lungo, c'è il lungo, con gli amici, e quindi, a quel punto, dovranno veramente, proprio una vacanza, cioè, partiamo, come sta domenica, abbiamo previsione, una quarantina di chilometri, e, con dei amici, anche, molto più lenti di me, però, non mi interessa, io voglio stare una giornata in montagna, tanto che uno mi ha detto, madonna, te rallentiamo, ma che cavolo me ne frega, io voglio, sta insieme a voi, montagna, sta insieme, si tocca a correre, corriamo, camminiamo, ci fermiamo, non mi interessa, per me sarà veramente staccare il cervello, dalla mattina fino a quando durerà, e, e poi, lungo in solitaria, lo amo tanto, perché, di solito, provo anche a, forzare un po' la mano, magari, mangiando, di più, o di meno, allungando, il passo in salita, provando a forzare, su qualche discesa, quindi, se, se penso al, al mix tra le due cose, ripetute più lungo, probabilmente, sì, allenamento perfetto, anche perché, anche per la maratona, i miei lunghi, li ho fatti sempre con dentro le ripetute di qualcosa, o medio, o ripetute per, a ritmo maratona, però, anche perché sono meno noiosi, tutti quanti, chilometri, piatti, 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 sono un po' noiosi, quindi, è la stessa cosa, se posso ai miei allievi, glielo dico, cioè, l'allenamento del fine settimana, deve essere, divertimento, non la prendete come, come, oddio, devo fare un lungo, madonna, mi devo, faticare, svegliare presto, dico, vai, andatevi, divertitevi, fate foto, se c'è bisogno, godetevela, tanto, la velocità, la portiamo, in settimana, non serve, quando usciamo in montagna, alla fine, dai. Concordo, concordo pienamente, c'è un allenamento, invece, cavallo di battaglia, tra virgolette, che metti sempre a tutti, o più o meno simile, magari a tutti i vari allievi? Le ripetute medie, 4 per 7 minuti, comunque, cercare di tenerli, un po' più, sulle gambe, tipo, 3 per 15 minuti, a ritmo medio, che poi, alla fine, è un ritmo, che tutti, pensano, non riusci a sostenere, invece, se è tarata bene, la scheda, viene facile, riesce a fare, il recupero, anche attivo, quindi, sì, secondo me, la ripetuta media, è tanto utile, e, anche, tanto soddisfacente, perché poi, alla fine, stai bene, ti sembra di aver fatto, poco, invece, invece, poi, lo ritrovi, lo ritrovi proprio. Sì, anche perché in gare, cioè, a meno che non puoi prendere 10 km, ma se puoi prendere un po' più lunghe, il tuo passo non sarà mai, quello massimale, massimale, se no muori, se fai 100 km, ma anche se ne fai 40, quindi, figurati, sì, assolutamente, 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 andiamo verso la fine, intanto ti faccio la classica domanda, da 0 a 42 per il sociale, cioè, come fai a far convivere, il lavoro, la famiglia, gli impegni, l'allenamento, l'essere allenatore, eccetera, eccetera, con i tuoi allenamenti, le gare, con la corsa, insomma? Eh, è un incastro totale, è un Tetris continuo, sveglie mattina presto, oppure uscire tardi, pause pranzo, in cui rubo quei 45 minuti, per fare quello che riesco, doppi allenamenti, magari anche 8 km in mattina, 8 km da sera, in più, vabbè, la mia compagna, che è una santa, perché, boh, esso con la bimba piccola, uno dei due giorni, me lo tengo sempre libero, del fine settimana, se no, prima erano, sia sabato che domenica, venivano via due lunghi, certo, io parto presto, per evitare, che poi, di pensare sulla famiglia, mancanza anche, però, capisco la loro voglia, di svegliarsi insieme a me, la mattina, sul letto, giocare, fare colazione insieme, lo capisco benissimo, però, come dicevo, le ultra, purtroppo, ti portano via tanto tempo, se le vuoi fare bene, se no, le fai, se finiscono, in qualche modo, si portano a casa, però, giustamente, dopo, a rischio, un fortunio, fermarmi, non è per me, io, voglio stare in movimento, quando mi sono fermato, anche la mia compagna ha detto, ma quando torni a allenarti, perché non ti sopporto più, quindi, quindi, se riesco, incastro tutto, e in qualche modo, ce l'ho sempre fatta, magari vorrei fare di più, però, me ne faccio bastare. C'è un percorso, invece, le tue zone, un sentiero, un anello, qualcosa che ti sentiresti di consigliare, perché merita, bisogna andare a vederlo, bisogna farlo, magari in un lungo, appunto? Allora, c'è un percorso, eh, feticcio, io qui al lago, c'è un percorso, c'è un percorso, che sarebbe bellissimo, far vedere, tanto che, c'ho sempre in mente, prima o poi, fare una gara, qui nella zona, è il classico, collinare, toscano, eh, però c'è anche, della parte storica, però, non consiglio quello, piuttosto, una montagna, che ho scoperto, essere, stupenda, che non è neanche, tanto alta, è un 1700 metri, che sta nel confine, tra Marca e Umbria, si chiama Monte Catria, che fanno anche una gara bellissima, eh, e l'anello, che io ho scoperto, grazie a degli amici, è un 15 chilometri, con 1500 metri di slivello, che io faccio, quando riesco, vado a fare, possibilmente, facendo due volte, da un verso, e poi dall'altro, per buttare su, di slivello, e 30 chilometri, con 3000 metri di slivello, che, non sono scontati, però, per gare, montagna, soprattutto alpine, che è quello, che io amo fare, serve quello, questi, di slivelli potenti, di quali, 5 chilometri, ti fai, 1100 metri di slivello, anche camminando, veloce, però, che, tu torni a casa, con le gambe rotte, però, le ritrovi, te le ritrovi sempre, quindi, ci ho portato tanti amici, a farlo, e, e se lo devo consigliare, sì, consiglio quello, è un anello, fa Catria, è acuto, che è l'altro monte vicino, e poi, si torna giù, tra l'altro, parte da un forno, che si chiama K2, è tutto un programma, bellissimo, bellissimo, fantastico, chiudendo proprio le ultime, cosa ti ha insegnato, in questi anni, la corsa? Ecco, questa è la domanda, proprio, casca al pero, ti giuro, anche questi giorni, stavo, quando mi ha detto, ti intervisto, dico, parte, ancora, devo capire perché, però, però, ci pensavo, dico, a quella domanda, io, ma che rispondo? Perché, quello che, la verità è che, ancora sto imparando, non ho ancora finito di imparare, e spero di continuare a imparare ancora, quello che la corsa mi può dare, sicuramente, mi ha insegnato, la pazienza, tanta pazienza, tante volte, ero, ero un po', troppo impulsivo, rispondevo, e invece, la corsa, se mi ha insegnato qualcosa, essere paziente, vedere che, con la costanza, poi le cose, vengono, e, basta, basta non abbattersi, basta non buttarsi giù, basta, allenarsi, uscire, sputare un po' di sangue, un po' di sudore, e poi, cavolo, i risultati arrivano. Vero, vero, allora, magari saprei, avrei pensato anche all'ultima domanda, che faccio a tutti, quindi, che cos'è per te, l'ultra running, visto che sei molto ultra oriented? L'ultra, per me, non è una distanza, e non è, e non è neanche, una cosa di cui freggiarsi, perché, non è che, allora faccio 45 km, sono un ultra runner, no, l'ultra è una cosa, è una condizione, è un sentirsi ultra, in tutto quello che uno fa, uscire la mattina, alle 3 della mattina, per andare a correre, è una cosa abbastanza ultra, da pazzi, solo i pazzi fanno le ultra, perché le ultra sono, da deficienti, è così, è appurato, cioè, fare 100 km in montagna, con il rischio veramente di, non te neanche a casa, qualche volta uno dice, 100 km, sono tanti, è vero, 160, quello che è, ma anche, 50 fatti beni, probabilmente sono, sono, veramente pericolosi, o comunque, sono devastanti, per tutto, per il corpo, recuperare da certe gare, ci vuole tempo, quindi, te ci devi sentire, ultra, non è che fai un ultra, e sei un ultra, io penso che è una condizione, che, viene, viene da dentro, ecco. Perfetto, fantastico, io ti ringrazio tantissimo, prima di chiudere, se vuoi darci, qualche riferimento, dove la gente può, seguirti, un po' come faccio anch'io, sui social, eh, volentieri, volentieri, tanto, ecco, mi trovate, forse allenare da te, aggiungo anche, ah, è quello ragazzi, avanti, venite, venite, volentieri, guarda, io ecco, mi trovate come, Simone, punto, Andreani, coach, su, ho aggiunto anche coach, prima era solo Simone Andreani, ma adesso ce l'ho messo, anche perché l'investimento l'ho fatto, speriamo che ripaghi, su Instagram, dove mi hai incontrato anche tu, e su Facebook Simone Andreani, e su Strava Simone Andreani, se io accetto tutti quelli che mi chiedono, tanto, non ce l'ho da scuendere niente, sono, sono, sono un libro aperto per tutti, anzi, se avete bisogno di consigli, posso consigliare pochi e niente, però, chiunque mi ha chiesto qualcosa, io, volentieri, ho sempre risposto, e, e anche perché, qualche volta, così, ho conosciuto delle persone meravigliose, che poi mi hanno aiutato a me, e, in tante altre cose. Giustissimo, giustissimo, io ti ringrazio veramente ancora, per la disponibilità, per l'orario, mi hai fatto anche relativamente tardi, ma, ti ringrazio tantissimo, per me è stato un piacere, averti qui, perché, tu hai portato una visione, sicuramente diversa, da quella di tanti altri, che comunque è super rispettabile, ovviamente, che a me fa molto piacere, perché è un po', come mi piace anche a me, che sia il trail, per certi punti di vista, dare tutto, ammazzarsi, tra virgolette, viverlo in modo genuino. No, grazie a te Lorenzo, è veramente un onore, essere qui, lo giuro, perché, ti ascolto, dagli antipodi, proprio, dall'inizio del post, che tanto, te l'avevo anche detto, tempo fa, ti dissi, avevo smetto di ascoltarlo, perché, quando parlavi, sentiva che stavi leggendo, era un po' impostata, e, siccome li ascolto al lavoro, sto otto ore in fila, e, probabilmente, ascolto solo podcast, un po', questa cosa, mi dava un po' fastidio, dico, torno tra un po', vediamo se è maturato, e ci hai maturato tantissimo, e, il podcast, adesso, è veramente, parte delle mie giornate, ti ringrazio, perché mi fai un sacco di compagnia, e, anzi, adesso, partono in fila, prima, prima il tuo, e poi Running Sofia, sempre in fila, vengono insieme, veramente, quelle, un retta e mezzo, che, mi vola, anche al lavoro. Bene, bene, mi fa super piacere, davvero, ti ringrazio ancora una volta, anche per questo, io a sto punto, veramente, saluto te, saluto tutti quelli che sono arrivati fin qua, ci sentiremo alla prossima, sicuramente, e con te ci vediamo, magari anche, sull'FKT, delle 5 Terre. Fantastico, non ve lo dora, e grazie a tutti, per l'ascolto, scusate, mi sono dilungato, ma, quando si parla di cose belle, è così, e non riesco a trattenermi. È inevitabile, è inevitabile. Grazie ancora, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.